Carenza medici la regione investe su borse di studio e contratti domani parte l'esame di maturità per 13.000 studenti marchigiani niente docce o ombrelloni quest'anno spiagge libere senza servizi i lions weekend di corsa contro il tumore al seno volley la mega box ingaggia anche alexic e carraro martedì 21 giugno 2022 auguriamo una cordialissima buona serata a tutte le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori apriamo il telegiornale odierno occupandoci di sanità e di un consistente stanziamento ufficializzato oggi dalla regione Marche per contrastare la carenza di medici sul territorio regione che investirà quasi 7 milioni di euro per borse di studio e contratti di formazione la preoccupante carenza di medici sul territorio marchigiano ha imposto un intervento concreto e tempestivo al fine di garantire la tenuta del sistema sanitario regionale questa mattina ho sollecitato il presidente laran ad avviare il tavolo appunto per rivedere i trattamenti e alcune prestazioni tipo quelle notturne festive e quelle dei pronti soccorsi del 118 perché appunto la scarsa appetibilità di queste specializzazioni può comportare anche il fatto che non vi siano adesioni a questi trattamenti previsti con le borse di specializzazione questo piano garantisce che nei prossimi anni la nostra regione possa superare le criticità che abbiamo trovato per la scarsa programmazione passata quindi siamo certi e sicuri che dal prossimo anno noi avremo i medici del primo anno di specializzazione in grado di lavorare sul territorio, negli ospedali e così via e quindi questo è un'inversione di tendenza totale vero è però che dobbiamo arrivare a questo traguardo che arriverà fra un anno e un anno e mezzo il che significa che le criticità che stiamo avvertendo sul territorio, l'affollamento nei pronti soccorsi, la scherzità dei pediatri e così via è una lacuna che dobbiamo affrontare e stiamo cercando di affrontare con i provvedimenti che abbiamo adottato in questi giorni Quello della regione Marche è un intervento che prevede un incremento delle borse di studio per i medici di medicina generale e dei contratti di formazione per medici specialisti per un costo complessivo di circa 7 milioni di euro volto dunque al potenziamento del sistema sanitario favorendo un adeguato ricambio generazionale In questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere è chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale Si dà inizio da quest'oggi e per i prossimi anni in una fase dove recupereremo inserendo nel circuito della nostra sanità decine di medici ogni anno che ci consentiranno di recuperare quel rapporto col territorio e ci consentiranno di dare le risposte ai servizi Le borse vengono finanziate dal ministero ma le regioni possono aumentare questi finanziamenti quindi accresce il numero di borse Attualmente i dati del ministero parlano per il nostro Ateneo di 901 borse e sono ancora in atto le iscrizioni ma per la prima volta la regione ha aggiunto un numero molto consistente passando dalle 5, 4, 6 borse annuali a 42 borse proprio perché offriamo in questo modo nuove opportunità anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti diventati medici quindi credo che si tratti di una risposta alle nostre comunità ai nostri territori a questa esigenza di salute sempre più forte mancano i medici e dobbiamo intervenire Nelle Marche saranno 13.170 gli studenti che da domattina affronteranno l'esame di Stato 2022 in tutto saranno 730 le classi coinvolte e 368 le commissioni di esame Nello specifico della provincia di Pesaro Urbino saranno 3093 i maturandi che in linea ai coetanei di tutta Italia affronteranno la prima prova del tema d'italiano Rispetto al biennio di pandemia giovedì tornerà anche la seconda prova scritta e gli auguri da parte di tutta la nostra redazione a tutti i neo maturandi Alcuni servizi come docce, ombrelloni e food truck che negli anni scorsi sono stati forniti alle spiagge libere del comune di Pesaro non saranno ripristinati per la stagione estiva alle porte A spiegarci meglio il motivo è l'assessore al fare con delega al demanio Riccardo Pozzi L'estate del 2020 e del 2021 per i frequentatori della spiaggia libera è stata accompagnata da una serie di servizi che il comune di Pesaro è stato in grado di fornire Si tratta di food truck, di ombrelloni, di lettini e di docce che hanno concesso un maggiore comfort a costo zero per tutti i bagnanti che hanno scelto la spiaggia libera Per quanto riguarda la stagione 2022 invece di quel modello che era stato sperimentato nei due anni precedenti non si è ancora vista traccia e per questo a fare chiarezza sull'argomento ci ha pensato l'assessore al fare con delega al demanio Riccardo Pozzi Siamo riusciti come comune di Pesaro a sperimentare un modello un modello che ha funzionato molto bene e che è stato molto apprezzato da pesaresi e turisti Questa possibilità è stata una conseguenza positiva diciamo così del covid perché il covid si è portato dietro anche una serie di decreti di semplificazione da un punto di vista amministrativo e burocratico per tutta una serie di procedure che ci hanno consentito di sperimentare questo modello in che cosa consisteva nella possibilità di posizionare un food truck con un deposito di lettini e ombrelloni per i bagnanti per poterlo lasciare durante la stagione e poterlo utilizzare e al tempo stesso anche delle docce delle docce che avevano bisogno di un presidio purtroppo, per fortuna oggi il covid è meno pericoloso ma purtroppo quei decreti che semplificavano e che liberalizzavano quel tipo di, insomma, queste autorizzazioni sono venuti meno abbiamo iniziato un ITER un ITER che insieme all'assessore Miladora che segue il piano spiaggia che quindi consentirà questo tipo di, diciamo, di modello di sperimentarlo, aggiustarlo è un modello che quindi richiedeva e richiede tuttora con la modifica al piano spiaggia tutta una serie di pareri quindi Regione, Demanio, Provincia e Sovrintendenza e quindi stiamo cercando di adattarlo per renderlo definitivo purtroppo per questa stagione verosimilmente non riusciremo sarà però un modello che tornerà a essere presente dalle prossime stagioni balneari Nel frattempo però il Comune di Pesaro è intervenuto fornendo un sistema di sicurezza ai bagnanti della spiaggia libera garantendo sette postazioni di bagnini lungo il litorale pesarese La fruibilità e la sicurezza delle nostre spiagge libere resta una priorità quindi anche quest'anno abbiamo impegnato 85.000 euro proprio per la gestione del servizio di salvataggio in tutte le spiagge libere da Sottomonte, Baia Flaminia, Fiorenzola è un servizio che paga il Comune che garantisce una maggiore sicurezza di tutti i balneanti, di tutti coloro che frequentano la spiaggia in particolare nei fini di settimana venerdì, sabato e la domenica e tutti i giorni in agosto Continuano a salire le temperature anche nel nostro territorio continua la siccità e arrivano le prime ordinanze di limitazione al consumo d'acqua a bruciare le tappe il Comune di Montelabate che oggi ha emesso un'ordinanza del Sindaco Cinzia Ferri che invita la cittadinanza a non utilizzare l'acqua idropotabile per servizi minori come il lavaggio di auto, piazzali o l'irrigazione di giardini e prati Fra una settimana Anas inizierà i lavori alla rotatoria sulla strada delle Siligate all'intersezione con Fiorenzola di Focara variante che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di ieri e che andrà a regolamentare uno degli assi stradali più pericolosi del territorio e teatro di troppi incidenti negli ultimi anni un'opera attesa da quasi vent'anni che vedrà consegnato il cantiere il 27 giugno alla ditta che sia giudicata all'appalto e che potrà cominciare i lavori Pesaro si colore di rosa con i Lions Weekend Sabato 25 e domenica 26 giugno due giornate dedicate alla lotta al tumore al seno allo sport e alla cultura della prevenzione Sabato 25 e domenica 26 giugno e ci piace dire che Pesaro si tingerà di rosa verranno organizzati due eventi da Lions Club Pesaro della Rovere e da Leo Club Pesaro in collaborazione con l'SD Atletica Banca di Pesaro e ovviamente il patrocino del Comune e anche del Coni Marche due eventi che saranno l'occasione per una raccolta fondi che verranno destinati alla lotta contro il tumore al seno e alla Susan Come in Italia Cosa saranno e come si terranno questi due eventi? Il 25 giugno alle ore 18 nel cortile dei musei civici a Pesaro avremo una testimonianza e ho di un'intervista tenuta da Emanuela Rossi a Ivon Pagliari Ivon Pagliari è una donna in rosa una donna che ha lottato ma sta lottando ancora contro la malattia Questo libro è un libro che nasce dalla mia esperienza contro il cancro che sto ancora combattendo e che è nato appunto durante il percorso della malattia in questo percorso io ho cercato di trasformare questo evento in qualcosa che potesse essere utile agli altri qui dentro ci sono tutte le donne che ho incontrato e che ho potuto conoscere e trasformare in poesia e insieme a me ci saranno dei grandi musicisti e sarà una presentazione spettacolo tra poesia e musica per raccontare le donne che combattono ogni giorno contro il male non solo il cancro Mentre domenica 26 giugno alle ore 9 in Piazzale della Libertà cambia completamente l'atmosfera e si accende l'Astra Lions a favore di Race for the Cure L'Astra Lions è un evento podistico ludico motorio nella formula della staffetta 3x3 km organizzato con l'esperienza dell'SD del territorio che è l'Atletica Banca di Pesaro e partirà in Piazzale della Libertà arriverà in Piazzale della Libertà e si svilupperà nel cuore di Pesaro nel centro storico costeggiando Rocca Costanza Sarà possibile partecipare all'Astra Lions per tutta la città perché non è solo staffetta ma anche camminata aperta a tutto il territorio nella formula appunto dei 3 km Stra Lions a favore di Race for the Cure e qui entriamo nella causa perché Race for the Cure è un evento simbolo di Susan Come in Italia ed è la più grande manifestazione in Italia e nel mondo proprio a favore della lotta contro il tumore al seno Lo scopo che ci contraddistingue viene rappresentato efficacemente nel nostro motto che è We Serve quindi ancora una volta i soci di tutto il mio club che rappresento in maniera diciamo orgogliosa ha lavorato instancabilmente proprio per portare avanti questo evento perché riteniamo importante scendere ed essere al fianco di donne che lottano contro una malattia malattia che ancora colpisce circa 55.000 donne all'anno quindi vi aspettiamo numerosi per sostenere la nostra manifestazione di solidarietà Ha fatto oggi e tappa a Pesaro il viaggio di Pasquale Caputo 73enne che sta viaggiando a piedi da Monaco di Baviera a Barletta lungo i 1700 km di cammino sulle orme di mio padre e di tutti gli internati militari italiani questo il titolo di un'impresa che vede Caputo ripercorrere lo stesso percorso che fece suo padre nell'estate del 45 quando partì dai campi di prigionia tedeschi nei dintorni di Monaco per raggiungere il 27 luglio la sua Barletta il viaggio oltre a tenere viva la memoria vuole essere anche un momento di riflessione di insegnamento e di monito sui temi della guerra delle persecuzioni e dell'immigrazione Dopo la Pesaro-Pola torna un altro appuntamento classico della Lega Navale che propone per sabato 25 giugno la terza edizione della regata del solstizio d'estate una regata che prevede due percorsi le barche più grandi con partenza dal porto di Pesaro dovranno compiere due giri dietro la barca giuria posta a Fosso Seiore mentre le barche più piccole e le derive un solo giro Regione Marche Amat rinnovano l'appuntamento con il Tau Teatri Antichi Uniti rassegna regionali di teatro classico che offre l'opportunità di fruire di luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso si tratta di un luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo che proporranno 34 appuntamenti in 16 splendidi siti archeologici della regione per una proposta che spazia delle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti made in Marche Passiamo ora allo sport parlando di Megabox Vallefoglia e in particolare dei due nuovi acquisti ufficializzati per rafforzare la squadra allenata da coach Bonafede Il mercato della Megabox Vallefoglia si infiamma ed entra nel vivo con due nuovi acquisti Maya Alexis e Giulia Carraro Sono loro i due nuovi volti che la squadra del presidente Angeli ha ufficializzato oggi in Viale Trieste andando a rafforzare due reparti quello del centrale e del palleggiatore per cercare di ambire risultati importanti nella prossima stagione Dello stesso parere il coach Fabio Bonafede che dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno vorrebbe fare quello step in più per ottenere una salvezza tranquilla e giocarsi un posto per i playoff Due giocatrici di grande esperienza di grande rilevanza tecnica dicevo più che anzi sono campionesse di Francia in carica e quindi due profili di alto livello Alexis è addirittura impegnata in WNL e farà i mondiali arriverà con noi solamente a fine ottobre però siamo sicuri del suo valore ed è il profilo ideale per accogliere l'eredità di Geki per quanto riguarda Giulia Carraro il progetto anche per quello che è successo l'anno scorso era quello di non avere una seconda paleggiatrice classica e quindi abbiamo scelto due profili che con grande intelligenza dovranno collaborare perché sono due profili di alto livello entrambe in grado entrambe di prendersi la responsabilità di guidare la squadra a pieno a questi futuri invece non posso spoilerare niente perché c'è una campagna di comunicazione che mi piace che è all'altezza ed è molto 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 professionale però sicuramente quello che posso dire è che la squadra è al completo e quindi si ci può dedicare tranquillamente adesso al gioco delle presentazioni il progetto nasce dal fatto che quest'anno volevamo una base di ragazze intercambiabili tutte con esperienza di A1 quindi per darci una base più ampia di scelta un po' un modello che hanno Conegliano Novara tutte queste grandi squadre che possono scegliere fra 15 giocatori noi non arriviamo a quello però nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare quello che si poteva per raggiungere quel tipo di modello prestativo Preparazione che inizierà dopo Ferragosto con l'obiettivo di partire bene sin dalla prima partita di campionato che è fissata il 22 di ottobre Tirato Ferragosto la preparazione che riguarderà tutta la squadra in realtà la preparazione atletica avrà una prima fase a livello individuale dove le ragazze fin da fine luglio inizieranno un programma di atletizzazione che dovrà portarle già pronte quando inizierà l'attività con la squadra E dalla pallavolo passiamo ai motori andando a vedere come è andato il weekend al Mugello del team MR Racing di cui Rossini TV è media partner sul circuito toscano del Mugello è andato in scena il terzo round del campionato italiano velocità con Morri e Di Vittori piloti del team MR Racing di cui Rossini TV è media partner che dopo turni di qualifica in cui non sono riusciti a raccogliere l'intero potenziale hanno comunque permesso al team di preparare due ottime moto per le gare Di Vittori pur partendo dalla sedicesima casella in griglia in gara 1 si è prodigato in un buon recupero che solo a causa di un piccolo errore sul finale non gli ha permesso di fare ancora meglio tagliando il traguardo in tredicesima posizione meglio ha fatto Morri che partendo dall'ottava posizione proprio alla partenza si è trovato a subire un forte contatto da parte di un altro pilota che lo ha relegato nelle retrovie da lì è però partita alla sua rimonta che lo ha riportato fino al decimo posto in gara 2 Di Vittori si è migliorato recuperando 8 posizioni rispetto alla casella in griglia di partenza e portando a casa un ottimo ottavo posto al termine di una gara di grinta e determinazione esito diverso per Morri che non al primo giro a suon di sorpassi e tempi sul giro di rilievo si è portato fino in terza posizione che purtroppo ha perso a causa di una scivolata quando mancava un giro e mezzo al traguardo l'ovvia delusione per il prestigioso risultato mancato non ha però tolto la gioia di aver lottato coi migliori della categoria per quasi tutta la gara prima della partenza della seconda gara io e il capotecnico Davide abbiamo avuto il colpo di genere dell'ultimo momento che ci ha permesso oggi di lottare per la settima posizione è stato un peccato perché dopo la prestazione di gara 1 dove in bagarre non sono riuscito a spuntarla su gli avversari nella seconda gara diciamo che sono riuscito nel finale di gara ad avere grazie a quella modifica quel decimo in gru per fare un po' di selezione nel gruppo in modo da avere una scia minore e di avere meno scie sul rettilineo e di portare a casa l'attavo posto in gara 1 dopo un contatto con un pilota che mi è venuto addosso ho perso parecchie posizioni ero tra le ultime e ho dovuto recuperare ho chiuso decimo invece in gara 2 dopo una discreta partenza ero in lotta per il podio mentre ero terzo stavo tirando troppo troppo caldo l'asfalto era 58 gradi e quindi sono scivolato però sono consapevole di poterlo fare di poter montare anche per magari qualcosa in più del podio e ci rifaremo la prossima la prossima che sarà il 30 e 31 luglio al circuito di Misano Adriatico siamo giunti al termine di questa edizione vi ringraziamo per averci seguito ma vogliamo anche ricordare con voi gli appuntamenti di questa sera alle 20 e 10 lo speciale sulla inaugurazione della 58esima mostra internazionale del nuovo cinema ed alle 21 e 20 in prime time qua la zampa il nostro speciale dedicato agli amici a quattro zampe con replica mercoledì giovedì sabato e domenica negli orari che vedete in sovraimpressione e non dimenticate di seguirci in ogni parte del pianeta ovunque voi siate grazie alle nostre trasmissioni in streaming scaricando l'applicazione di Rossini TV vi ringraziamo per l'attenzione l'appuntamento è con il Rossini News domani sempre alle 19 e 40 sul canale 80 ma l'informazione torna domattina alle ore 7 e 20 con Buongiorno Rossini buona serata grazie a tutti